Buongiorno Abbiamo fatto oggi sabato 11 dicembre La Babbo Run di prima edizione A Frieto Canavese Una corsa camminata non competitiva a posto libero Che comunque Era anche un po' agonistica Perché abbiamo avuto dei run Che comunque si sono cimentati in questo percorso di 5 km Da ripetere 3 volte Quindi era un anello da 1,6 Da ripetere 3 volte Abbiamo il primo assoluto maschile E il primo assoluto femminile Che è Mattia e Erika Dove arrivi Mattia? Da Rivaloro Da Rivaloro e te? E anche da Rivaloro Da Rivaloro Per chi correte? Correte per qualche società? Io Codistica Baierese Atletica Canavese Ok Io sono Codistica Baierese Allora entrambi con la Codistica Baierese Come l'avete visto sui social L'avviso dei Babborani Da Rivaloro Da noi è arrivato sul gruppo dell'Atletica Proprio proposto per i bambini Ah ok l'avamo pubblicizzato Bene benissimo Come vi è sembrato il percorso? Carino? Carino Sì, è stata la prima edizione Noi abbiamo fatto quello che potuto fare Vi ringraziamo comunque che ne avete partecipato Vi facciamo i complimenti Vi aspettiamo a fare le prossime edizioni Grazie ancora, complimenti Grazie Ciao Grazie